Robby! Lore! Oggi ti devo dare la carta di credito di Lore alle mie mani Perché mi devi comprare i giocattoli di Poppy Playtime Dammi 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 che ci penso io Compriremo i migliori giocattoli di Poppy Playtime capitolo 3 E ciao a tutti ragazzi Sono Lorenzo E stiamo qui con Robby che mi dovrà comprare i giocattoli di Poppy Playtime capitolo 3 Mamma mia Comprami i giocattoli Ah ok 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 Allora cominciamo da un personaggio Scegliamo quello che mi piace meno Ok quello che ti piace meno Però intanto prima ricordiamo a tutti che questa serie la porta avanti tipo dalla notte dei tempi E' lui il king E' lui Infatti questo è uno dei primi video che erano usciti Dove compro 10 prodotti su Poppy Playtime e Mammy Longlegs Ma chi abbiamo stavolta su Poppy Playtime capitolo 3 Ne abbiamo tanti Tanti Ok cominciamo da quello più brutto Questo non ti piace qua Mammy Longlegs così No non c'entra niente Quello più brutto No Questo non lo vuoi ma sicuro che questo è quello più brutto Ma io intendevo non il giocattolo il personaggio più brutto Vabbè Poppy Playtime game capitolo 3 Peluche giocattolo orsopio Ma non è un asso sta cosa è un gatto Mi sa ho mezzo schiacciato Schiacciato da una macchina Andiamo sui nostri siti preferiti Iniziamo con Aliexpresso caffè Wish Amazonia.com Amazonia.it E poi il sito ufficiale di Poppy Playtime Dove ci sono quelli belli Giusto Giusto Allora primo sito Aliexpresso Allora Io ho paura Sto mettendo i miei soldi in mano a lei Poppy Playtime Allora siccome c'è il copyright Doll No ma ti cerca Poppy Poppy No ma io voglio Miss Delizia Ma cosa sono Ma che cosa sono questi? Ma questi? Ma Miss Delizia Proprio scrivilo Miss Ah proprio l'hanno cercato Sì sì Miss vai In inglese Delizia sì dai Allora Oh Ok spugano un sacco di cose Qua ce ne sono tanti Però dov'è Miss Delight? Penso che sia la challenge più difficile di questo video Allora sto cercando Miss Delight Ma non c'è Non la trovo L'unica cosa che trovo è questo Ma questo è di un altro gioco Cioè non è nemmeno un gioco Aspetta un attimo Dobbiamo leggere la descrizione Tutta da circo Cos Cos Ragata Fantastici costumi Cosplay digitali Spettacolo Per feste Per bambini Costume da carnevale Vestito Ragazzi ragazze Abbiglamento Jax Guarda gli occhi di Kane Cioè gli occhi sono all'anno Dici almeno le fanno ingiuste È un pochino storto Eh ma poi venivi storto Vabbè ma non dobbiamo pensare a queste cose Non è Digital Circus Esatto E dobbiamo comprare cose di poppy playtime Allora senti Miss Delizia Non c'è Ok Prendiamo dei smiley Qua ci sono i smiley in critters Ne prendiamo uno No Allora dobbiamo prendere i smiley No li prendiamo tutti Come tutti Tutti Come tutti Tutti Picchi 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 farcito Solo lui Effettivamente c'è anche la mese Esatto Però ti posso dire Fanno un po' schifo Va bene Lo stesso Dobbiamo poi vederli Perché poi ci sarà un altro video Dove li andiamo a vedere Intanto voglio questo Che non è male Regalo di Natale C'è scritto Cioè te lo stai regalando per Natale Ok ok Me lo aggiungo Aggiunga il carrello Vai E uno L'abbiamo fatto fuori Dobbiamo cercare Le cose Spicy Allora Altre ricerche Abbiamo cercato Bobby Playtime 3 Basta peluche Prendiamo qualcosa Da indossare Che cos'è questa Gucci Ma vai Prendi Vai prendi una felpa Prendo questa Il nuovo gioco Di cartone animati Non è un cartone animato No però è bellissima Quella dell'unicorno Ti prego Guardiamo Voglio questa No Dai Allora Voglio vedere Quella l'alancione Che il tuo colore Quella di dog day Ci sto Andiamo a vedere un attimo Le persone che l'hanno ordinata Come è arrivata Se l'hanno ordinata Se l'hanno ordinata In caso saremo i primi Recensione dei clienti Zero Sarò il primo Il numero uno Andiamo al prossimo sito Che è Temu Ma non era wish No Vabbè temu Non temiamo Non ti temu Stavolta cerco io Popi Pop Non mi aiuto Pop Playtime Playtime 3 Ma che c'è Perché è Poe È Sad Poe Ah Sad Poe Giustamente È benissimo Ho cercato Popi Playtime 3 Ma non mi spunta nulla Se li metteva accanto Sembrano Guarda c'è pure il figlio Se sposti la luna La metti giù È lui Però non stiamo cercando Questo gatto Cerchiamo un altro tipo di gatto Non possiamo comprare lo stesso No Hai detto di no Hai detto che non devi mangiare Ma non è per me Ma perché È un modo per farmi Accordentare Sì Ok Vabbè Hai vinto Allora siccome non ha funzionato Temu Siamo su amazzonia.it Allora Popi Playtime Chapter 3 Quanti Questo qua mi Mi fa paura Bobbi come me Sì Bobbi Berag Ma come me Allora adesso io faccio una cosa Perché questa faccia mi inquieta Quindi vorrei mettere di sotto Le voiceline Di Bobbi Berag Lo prendiamo Massimo Ok lo prendiamo Ma questo è 17 euro Sai che cosa Non prendiamo più peluche Qualcosa di più particolare Ci sono portachiavi Oppure rubazzetti Cappellini Ok vediamo cosa ci Riserva Amazon Qua ci abbiamo un botto di peluche Tra l'altro questo qua fa una paura L'aggy waggy È incredibile No questo È bellissimo Comunque tra tutte le cose Che stiamo vedendo di Popi Playtime C'è una cosa che vorrei tanto prendere Solo che Robbi mi dirà di no Cioè Ma è bruttissimo Questo Ma costa solo 17 euro Ma cos'ha Non ha nemmeno delle orecchie Guarda che è la felicità Di questo bambino Vuole ammazzarsi Ma non è vero Guarda Guarda che là c'è un muretto Guarda che è felice ora Visto Ma perché sta sciando È pure felice anche Ma so per Anche È una stampa È felice Aspetta Io voglio vedere solo quando Si alza le mani È photoshopato Non si alzerà mai le mani Non è photoshopato È una vera famiglia Con un vero regalo Cioè ti immagini Tutti i vestiti bianchi e rosso E poi c'è lei Che rovina la foto Col cappello blu Cioè Che senso ha Ma chi è questa In niente ragazzi Da comprare Per favore Per favore Me lo metto io adesso Adesso addosso Aspetta facciamo una cosa insieme Addosso Ok Io direi Di prendere Questo dai Alla fine ci siamo convinti Sì alla fine ci siamo convinti Ti faccio notare una cosa Lo aggiungo al carrello Non è niente Basta andiamo nei veri posti Il sito ufficiale Il sito ufficiale Io conosco un posto migliore Prima del sito ufficiale Il sito in questione è Etsy Allora Su Etsy ci potrebbero essere Quindi giochiamo Poppy Playtime Sono cose fatte a mano Quindi magari Ecco Ma c'è il vero Grabpack No compriamolo No Hai il file per stamparlo Mannaggia Ma io voglio quello vero Ma la maschera C'è pure la maschera Sempre da stampare i file Mannaggia Ma che dici Per la stampa 3D Dai Allora Cerchiamo direttamente Proprio che lo voglio Ci abbiamo la possibilità Di trovare veramente Il Grabpack Dove si C'è che cazzo C'è guarda Guarda questo Ma quante robe belle Cioè Sembra Sembra Eren Eren Ma dove ce lo vedi Non ci assomiglia Non ci assomiglia Direi che non c'entra niente Non ci assomiglia il titano Ma immaginavano sopra una scrivania Questa cosa Beh ragazzi Ovviamente Io non dormo Gli incubi C'è lo skateboard Lo skateboard Più che skateboard Mi sembra una bara È un Da 177 euro Uno skateboard Non lo spriamo No no Io non li ho tutti quei soldi Ma come Dai Non li ho Dai è trasparente Vediamolo Non è il legno blu Dai è troppo bello Ma è semplicemente il legno blu Con la stilizzazione di Huggy Hai detto poco Ce ne hai un tu uno così uguale No E allora Articolo raro infatti 177 euro Allora io direi di cercarlo Poppy Playtime 3 Grab Pack C'è È uno zaino È uno zaino È uno zaino È l'uncinetto Vediamo No Ma ci metti le mani Oh mamma mia Ma Ma Questo bambino ha un po' di difficoltà ad usare il Grab Pack Sulle mani Diamo la nostra energia Goku Diamola Madonna Però è bellissimo Comunque è molto bello Prendiamolo Questo è per andare in inverno sulla neve Prendiamolo 40 Oh ma il libre pure Cioè vanno per libre Pronto polizia non vuole comprare le cose No le compro Mi dispiace non si può comprare non so quante libre sono Tu quanti libre sei? Boh tante Quanti piedi Foot sei? Foot piedi Due Due foot Due piedi Ma come si misura i foot? Uno Due Due Tre Penso di essere un po' di più di due Quattro foot e mezzo sarà No 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 Pirchio No 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 lo prendo No Trecento Ma no Aprilo Aprilo Pallo per la scienza Pallo per i tuoi fan No vabbè Ma c'è pure il filo? Ma le puoi lanciare? Allora senti Se le mani si staccano e si lanciano lo compri Ma esiste il vero grab pack? No vabbè C'è il filo che ho ritornato indietro C'è bellissimo Allora Facciamo una cosa Facciamo così Io esco un attimo Tu lo compri? No aspetta Se volete che lo compri Lasciate un like Ora E a fine video lo compro Va bene A fare fatto Ok Mi raccomando A fine video Lascia like Lascia del like Lascia like Lo stai facendo la promessa Sì Vai Ok Allora direte andare sul sito ufficiale di Poppy Playtime E là ci spendo le peggio cose Vai D'accordo Allora Come si chiama il sito ufficiale di Poppy Playtime? Poppy Playtime Poppy Playtime Official site Oh Giusta me Ma perché ho preso quel dog day? Non potevo prendere questo È molto più bello Spendiamo catnap Vai Ok vediamo com'è catnap Però è un preordine Quando mi arriva? Mai Dai Red gas non incluso Quanto sono simpatici Peccato Peccato Mettiamo nel carrello questo Ok ci siamo Ok Vogliamo altre cose Altro Altro Facciamo così Siccome abbiamo preso il peluche Fake Di dog day Prendiamo quello vero E poi Nel prossimo video Facciamo la comparazione È una scusa È una scusa solo perché lo vuoi Sì Prendilo Dai Siamo a due Andiamo Altro Accessori È bellissimo Compralo Ti prego Lo zaino di catnap Ah pensavo questo Già mi stavo spaventando Io con quello in giro Non ci vanno Ma invece ci andresti Comunque voglio quello Monster catnap kids face backpack Ma guarda che cosa c'è Ma quello è più bello Tu dici Una maglietta Ok prendiamo la maglietta Facciamola vedere questa maglietta Triple XL Triple XL Che taglia sono io dai Indovina Una M No Una S Sì Sei sicuro Sì Ricorda che comunque Sono sicuro Aggiungi al carrello Dammi la patatina No 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 Dammi la patatina No no Adesso lo devi fare con me Certo No ti prego No ti prego Prendiamo questa maglietta Questa è bellissima Questa è molto inquietante È molto tema popibilità in tre Perché è uno dei più spaventosi Sì sì Cutnap tra l'altro È il peggiore di tutti Comunque aggiungi Non voglio vedere il carrello Quanto lo vediamo No 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 Voglio vedere quanto è il carrello Un poster lo mettiamo Il crapac costa di più 117 euro A parte che dispari E non va bene Deve essere un numero pari Quindi Quanto mi devo spendere? Un posterino Un piccolo Lo mettiamo qua dietro Va bene Anzi lì Tutta piena di poster Ragazzi Non ci sono più poster Non ci sono più poster Cioè stiamo controllando tutto il sito No Ah li hanno tolti Io che mi volevo tappezzare la stanza Sì Non è vero Con i poster Io che vorrei Già 100 euro Poi metti Pove pibi Pove pibi Pove pibi Nonno Eccoci Ok ci siamo È arrivato il momento della verità No Non della verità È il momento di comprarlo È il momento di comprarlo Posso scegliere pure il colore della mano Te Mano rossa O mano verde Mano rossa Ok mano rossa Infatti E il bambino è incluso? Il bambino non penso che sia incluso Ah ok Però Ok Fatto a mano Materiali Plaplapec Corda di nylon Dai dai Aggiungi al carrello Va bene Vai Lo faccio Vai Ma che sto fatto? 452 Ma che cosa dici con le spedizioni? Ragazzi Ce l'abbiamo fatta L'abbiamo fatto Eh Lo voglio provare anch'io però Poi Va bene Io lo faremo provare Ragazzi Io spero tantissimo Che questo video con Roby Vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto C'è un sacco di pollici in su Qualcostro Allora Esiste tutto E noi ci vediamo Ad un prossimo video E Ciao